Da quasi 24 ore piove incessantemente su Catania. Sono moltissimi danni e disagi in città, tante le persone bloccate in auto e le strade allagate. Durante la notte il maltempo non ha accennato a fermarsi e per le prossime 24 ore le condizioni meteo non sembrano migliorare. Catania e l'Interland è allagato con picchi di oltre 340 mm di acqua. A Catania in via Volturno ha ceduto una parte di un edificio comunale abbandonato da anni e occupato da alcune famiglie in difficoltà. I calcinacci hanno colpito e danneggiato un'auto che era parcheggiata sotto. Numerose le segnalazioni di tombini scoperchiati dalla forza delle acque che hanno causato problemi alla circolazione. I vigili del fuoco, la polizia municipale e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte. A Valverde ceduto il pilastro del loggiato del santuario che è stato evacuato. Disagio e traffico in tilte in via Parafera per la presenza di numerose buche. L'arteria rappresenta l'unica via di collegamento tra paesi di San Nicolò, San Gregorio e Cannizzaro perché continuano i lavori della via Sgruppillo. Al momento a causa dell'insistente pioggia è impossibile riparare le buche e il comune ha provveduto a porre segnali con limiti di velocità. Il traffico quindi è andato in tilt. Ieri i danni più evidenti sono stati nella Cese dove si è ingrossato anche il fiume Platan, il terzo più lungo della Sicilia, allagando tutta la zona. Le scuole di molti comuni etnei su disposizione dei sindaci sono rimaste chiuse. A Catania invece il sindaco Bianco ha scelto di tenere tutti gli istituti regolarmente aperti. Da ieri, come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, è stato attivato il presidio operativo che raccoglie le segnalazioni dei cittadini e per tutta la notte i punti più critici della città sono stati perlustrati da squadre miste di volontari e di dipendenti comunali, in particolare per monitorare il deflusso delle acque in canali e torrenti. Per la giornata di oggi l'amministrazione comunale raccomanda ancora alla popolazione la necessaria prudenza e in particolare di evitare l'uso di mezzi a due ruote. Per ogni segnalazione si potrà chiamare il numero 095 48 400 che corrisponde al Centro Segnalazione Emergenze della Protezione Civile Comunale, attivo 24 ore su 24.